Buongiorno ragazzi, oggi presentiamo l'altra nata di casa Valkane, la linea Black Vespine, la 61 MLH, quindi canna più potente, indicata per una fase di pesca dove le trote sono eccitate, dove sono attive, ma è una bellissima canna anche da usare per hardbait, magari più palettate, più di profondità. Io in questo caso ci vado a muovere il nuovo AIS-F di casa Valkane, che scende abbastanza e crea molta vibrazione in acqua. Lo vado a muovere con un nylon torai super hard da 3 litri. Il pesce è in superficie e vuole un recupero abbastanza lento con degli stop and go e delle cercate, perché è abbastanza diffidente, ma è assolutamente solo in superficie. Vedete che bella piega che ha la canna. Ecco qua. Baisley 61 MLH, nylon hard torai 3 libri e AIS-F di casa Valkane. Ciao ragazzi.